Sulla gareltra all'aeroporto Federico Fellini di Rimini, i taxisti, entra a gamba tesa la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaella Sensoli, che attacca i vertici dello scalo, sostenendo che sarebbe maggiormente utile impegnarsi per attirare più turisti provenienti dall'estero. A Riminum sta dando vita ad una guerra con i taxi sulla gestione e gli spostamenti degli stessi turisti in città, spiega Sensoli. Una strategia, dice francamente, incomprensibile, per questo abbiamo chiesto un'audizione di a Riminum, dei tassisti e dei rappresentanti degli enti locali in commissione trasporti per parlare di questo tema. Questa la sua posizione riguarda la decisione di a Riminum di puntare sul trasporto dei passeggeri per e dall'aeroporto, scatenando così l'ira dei tassisti. Mentre a Riminum, continua Sensoli, arranca, ricerca di compagnie, voli e viaggiatori, mentre scompaiono gli aerei della AirBerry dalla Germania e chiudono gli uffici in aeroporto del Consulato russo, che doveva essere la terra promessa della nuova gestione. Si scatena la guerra per gestire il traffico dei turisti e che per ora non ci sono verso la città. E se non va bene, continua Sensoli, ecco pronto il servizio di navette e shuttle alternativo, così da eliminare larga parte del mercato di riferimento dei tassisti locali e dare un ammazzato ulteriore alle piccole imprese individuali o cooperative del nostro territorio. Noi pensiamo, conclude, che sia necessario assicurare un servizio efficiente, veloce e del più possibile concorrenziale, ma soprattutto che ognuno debba fare la sua parte.